Ciao a tutti e benvenuto a un solito appuntamento con l'analisi sul Dow Jones ovviamente andremo a vedere che cosa ci aspetta per i prossimi giorni dal punto di vista ciclo quindi andremo a identificare quale sarà la data corretta per un ingresso al mercato che dovrebbe essere rialzista dal punto di vista della tendenza perché il 27 di marzo avremo la chiusura del ciclo a 20 giorni l'analisi di settimana scorsa si è rivelata corretta quindi chi ha utilizzato le indicazioni di questa analisi gratuita ne ha sicuramente tratto profitto mi raccomando non andare via, subito dopo la sigla del canale procederemo con l'analisi Rieccomi, se è la prima volta che mi stai guardando ti do il benvenuto sul mio canale YouTube io sono Paolo Peisino, sono un trader dal 2007 e da 8 anni la svolgo Comunica Attività mi puoi trovare sul sito www.tradeimpertutti.com dove ho riservato, ho riversato tutta la mia esperienza e tutti i miei studi in abito di analisi ciclica intanto da riuscire a creare un programma formativo di ben 41 ore quindi 41 ore dove imparerai tutto ciò che è inerente all'analisi ciclica originale di JM Hearst più ovviamente tutte le modifiche da me apportate per renderla più adatta al mercato di oggi e avrai anche l'opportunità di utilizzare, di conoscere, lo vedrai comunque nella mia analisi il mio ultimo prodotto nato che è l'indicatore Voltem che è in grado in maniera automatica di andare nel passato, analizzare tutti i cicli e proiettare nel futuro quelli che saranno i prossimi movimenti puoi anche eventualmente visualizzare il corso di analisi volumetrica e la sala segnali intraday adesso andremo a vedere i risultati che non sono ancora aggiornati però ad oggi intanto ti invito a iscriverti al canale Telegram gratuito dove potrai scambiare opinioni sia di trading che di macroeconomia con gli altri traders che partecipano al canale oh cavolo performance sala segnali sta andando bene l'anno con 1414 punti sul Nasdaq, 62 in perdita sul DAX e 35 punti in profitto sul DAO il mese di marzo invece non è sicuramente positivo con 263 punti sul Nasdaq chiusi meno 357 cui purtroppo devo aggiungere i 120 di oggi di perdita quindi sono tornato a 367 più 120 sono tornato a 477 punti di perdita sul DAX DAX veramente questo mese è la mia bestia nera come sempre dico i conti comunque si fanno alla fine dell'anno allo stato attuale chi è iscritto da inizio anno è comunque in forte profitto per quanto riguarda i segnali chiaramente poi domani andrò ad aggiornare le operazioni che si chiuderanno se si chiuderanno nella giornata di domani ma direi di partire velocemente con l'analisi intanto ti chiedo scusa se guardo in alto ma sto guardando negli altri monitor perché sono short di Dow Jones sono a pari in questo momento e quindi dovrò ogni tanto dare un'occhiata per poter mettere a break even allora così come ho fatto sugli altri indici ho tolto il future ho messo il cash per evitare di dover rifare l'analisi da zero ogni volta che scade il future tanto da un punto di vista temporale non cambia nulla l'analisi è esattamente identica a quella di settimana scorsa il mercato è andato a sostanzialmente confermare questo minimo massimo del ciclo a 20 giorni come puoi vedere il ciclo più piccolo illuminato è il 20 giorni quindi le onde più piccole sono il 20 giorni e abbiamo un minimo previsto intorno al 27 di marzo oggi è il 20 di marzo quindi ne abbiamo ancora per circa una settimana il mercato è totalmente imballato in laterale quindi diventa difficile fare ulteriori operazioni quello che ci converrebbe fare o meno che converrebbe fare è attendere, fermarsi, non fare assolutamente nulla guardiamo se abbiamo già l'opportunità di tracciare una prima trendline da 20 giorni in realtà non ce l'abbiamo ancora ben chiara molto probabilmente sarà questa qua quindi andrà a unire questo massimo se chiaramente questo massimo rimarrà valido intendo questo qui al momento è ancora un punto interrogativo infatti andremo a tracciare del colore giusto che è viola però l'andrò a mettere puntinata puntinata non si dice puntinata significa che non è ancora valida a meno io la utilizzo così vuol dire che una trendline è provvisorio in questo momento sarà una trendline da poter utilizzare per eventualmente un rialto qualora il mercato l'andasse a rompere più o meno intorno al 27 di marzo quindi nel momento sul Dow Jones bisogna rimanere assolutamente alla finestra sarebbe sicuramente meglio che scendesse ancora per andare ad avvicinarsi al minimo ciclico del 27 di marzo per poter allora poi sì andare a prendere una fase rialzista che comunque di fondo durerà parecchio perché se andiamo a togliere i cicli più piccoli se riesco a evitare di cliccare mille volte sullo stesso tasto avrà poi il suo prossimo minimo che sarà intorno al 9 di aprile 2023 però se andiamo ad aggiungere un semplice 40 giorni vedi che in realtà abbiamo una bella fase di ritracciamento perché il minimo più corretto da tracciare sarà da lavorare sarà poi questo qua del 21 di aprile comunque al momento bisogna rimanere assolutamente flat andremo poi alla ricerca di operazioni rialziste solo nel momento in cui il mercato andrà a rompere la Trenlandia in circa 20 giorni ma soprattutto me la confermerà come possibilità di rialzismo con questo direi che è tutto per quanto riguarda il Dow Jones come sempre ti chiedo di cliccare un like se ti è piaciuto l'analisi di registrarti anche al canale cliccando sulla campanella puoi rimanere sempre aggiornato con le mie analisi con questo è tutto ti do appuntamento alla prossima analisi di questa sera ciao ciao